La prossima sessione di calcio-mercato potrebbe essere incentrata sugli scambi. La crisi economica causata dal coronavirus infatti potrebbe spingere le società a lavorare soprattutto con questa modalità. E secondo l'emittente radiofonica spagnola RAC1, affare d'apripista potrebbero essere Juve e Barcellona, che starebbero pianificando un baratto tra Miralem Pjanic e Artur Melo. Il centrocampista bianco-nero che piace al Paris Saint-Germain fino a qualche tempo fa era considerato un intoccabile, ma vista le presunte difficoltà con Maurizio Sarri il suo status potrebbe essere cambiato. Stando a quanto riferito dai media iberici, Club Piemontese avrebbe già avviato contatti con gli spagnoli pronti ad offrire Artur Melo, calciatore dal grande potenziale che però non riesce ad esprimersi pienamente al Barca. Le premesse sembrano buone, ma probabilmente i giocatori non si equivarrebbero del tutto e l'eventuale accordo includerebbe anche una componente economica. L'interesse delle big d'Europa per Calidu Coulibaly non è scemato. Ogni estate Aurelio De Laurenti si tiene duro e blinda il suo gioiello difensivo. Lo scenario si ripeterà nella prossima sessione di mercato. Un tentativo arriverà sicuramente dal Manchester United. Il corteggiamento dei Red Devils nei confronti del Livoriano ormai dura da anni. Attenzione anche a Paris Saint-Germain con il DS Leonardo pronta a piazzare la sua offerta. Così come in passato però De Laurentiis non cederà facilmente e prenderà in considerazione solo proposte a tre cifre. La volontà di Enric Mkhitaryan è chiara, rimanere alla Roma. L'Armeno è rimasto rapito dal fascino della città e dall'atmosfera serena e professionale che si respira a Trigoria. Da qui la decisione di dare a Mino Raiola il mandato di trattare con l'Arsenal per discutere della sua permanenza nella capitale. Il club giallorosso punta un nuovo prestito oneroso, ma il giocatore dovrà prima rinnovare il contratto con l'Arsenal in scadenza nel 2021 e spalmare l'ingaggio di 7 milioni e mezzo netti a stagione per abbassarlo almeno a 4. Il DS della Roma Petrachi è fiducioso. Mbappé potrebbe decidere di rimanere al Paris Saint-Germain, ma solo se la squadra gli permetterà di partecipare ai giochi di Tokyo 2020. Ad affermarlo è il quotidiano spagnolo mondo deportivo, secondo cui l'attaccante dei parigini sarebbe anche disposto a rinnovare il contratto in scadenza nel 2022, ma solo se la società gli consentirà di partecipare alle Olimpiadi, rinviate al 2021 a causa della pandemia di coronavirus. Stando a quanto riferito dalla testata iberica, il club campione di Francia vuole prolungare la permanenza di Mbappé fino al 2025 ed avrebbe anche già presentato alcune proposte al calciatore, che però ha voluto rimandare il discorso a fine stagione. Nel caso in cui le parti non riescano a trovare un accordo, il Real Madrid sarebbe felice di accogliere il giocatore 21enne.